buongiorno a tutti e ben ritrovati come sempre nel canale arte allegra quest'oggi realizziamo un primo sempre tratto dal libro di cucina maltese che io ho comprato e 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 la mia ricetta di pasta è pronta con questo video vi saluto come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale a commentare a condividere i miei video con i vostri amici noi ci vediamo con una nuova ricetta nel canale arte allegra ciao e una buona giornata a tutti ciao